mister mariotti al termine di questo match è stato un brutta rezzo soprattutto una brutta sconfitta è brutta è brutta perché ieri l'avevo detto il derby è derby il derby va affrontato prima con la sciabola non col fioretto e poi quando ti accorgi che l'altra squadra invece ci mette tutto qualcosa in più ti va in vantaggio ti accorgi che dopo fai fatica e ti nervosisci fai centa moneti in espulsione e poi come ho detto ai due colleghi devo chiedere scusa all'allenatore a questo pubblico meraviglioso che ci ha seguito e ci ha incitato sono andato sotto senza dico le domande che sto sicuro che tu mi faresti sono andato sotto come io essendo allenatore quando ci fanno i fischi i miei ragazzi io devo essere il primo come non vado quando sono tutti applausi quando si vince tanti applausi non andrò mai perché dopo sarei ruffiano preferisco prendermi quello che ho preso io ho detto oggi tanta merda però poi ci vuole carattere domenica di affrontare un'altra trasferta tosta con una cattivera inaudita con qualcosa che ci verrà solo da dentro senza sì e senza ma forse la nota maggiormente negativa è stato il fatto di aver visto l'arezzo che è una squadra insomma di caratura superiore alla san giovannese non ce vogliono amici di san giovanni ma insomma perdere un po la testa anche l'espulsione forse probabilmente anzi senza forse poteva essere evitata assolutamente sì io ho fatto il secondo tempo sono stato ho fatto i cambi però non ho ecceduto non ho cercato perché era una situazione che ci avrebbe portato a compromettere tante cose invece abbiamo perso proprio la bussola in una maniera inaspettata incredibile e non giustificabile perché nel calcio uno sport si può andare sotto ma se sei forte devi essere forte prima di testa e poco tutto il resto evidentemente oggi non so che cosa pensavamo ma avevamo preparata bene anche mentalmente sapevamo che i derby sono derby però va bene così dai non posso di nient'altro perché solo aspetto una grandissima una reazione domenica e basta peccato perché comunque l'arezzo nel primo tempo non era stato male poi c'è stato questo proprio episodio del rigore che ha cambiato lo scenario completamente sì perché tu tu da quando vieni da settimane che non ti danno rigore e ne prendi uno dubbio che scatta qualcosa perché è inutile girarci intorno a Follonica due rigori clamorosi su 0 a 0 domenica non ne parliamo oggi uguale una condizione c'è qualcosa che ti fa pensare ti fa a pensare e tutti quanti se ne dovrebbero rendere conto perché dopo come dice Murigno è tutto facile ma datemi quello che mi aspetta e poi cambia un po' tutta la musica